Sai chi te l'ha regalato questo? Questo qua? Donatella Versace. La conosci? Sì. È una grande stilista. Questa? Sì, questa. È la tua stilista preferita? Sì. Sì, vero? Vuoi salutare la Donatella? Digli ciao Donatella, un bacione. Ma parla. Eh? Ma parla. Certo che parla Donatella. Ai capelli? Ai capelli, sì. Ai capelli? Ai piedi anche, sì. Anche le mani? Anche le mani, la Donatella. Anche le mani, la Donatella? Eh? Anche il petto? Alla pancetta? Alla pancia, sì. In questo video. Francesca Terragli. Poi una vecchia foto di Chiara con Filippo Fiora. E dove sta andando Chiara oggi ce lo dice lei dal treno. Sta andando verso Roma per il suo evento. Bene, ciao.